Questo vino qui è stato l'ultimo vino, diciamo così, progettato da mio padre. È nato proprio, l'hai detto te, dall'esigenza di creare un vino che fosse un po' più di respiro internazionale, che strizzasse un pochino l'occhio anche al gusto delle persone un po' più giovani, che magari per avvicinarsi al vino hanno bisogno di un prodotto un pochettino più fresco, un pochettino più giusto. Un vino che nasce esattamente in una vigna particolare nostra, che è quella che ci dà il nostro migliore Cabernet Sauvignon nella territorialità del Chiara. E questo è un vino che comunque fa relativamente, rispetto agli altri nostri supertustano, un pochino meno legno, anche se comunque poi riesce ad acquisire una rotondità importante, che però è data molto dall'uvaggio. La barrica ungherese è quella che dà un pochettino più lo spezia, un pochino più forte, che viene dosata ovviamente nella maniera più opportuna possibile per non prevaricare, ma che gli dà quel carattere in più. Poi fa un buon affinamento in vetro, che per noi è importante su tutti i vidi, fa andare fino a 12 mesi anche in vetro, perché ha bisogno di arrotondarsi il più possibile. Grazie. 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 Grazie.